Disciplina, salto della capretta. Probabilmente il clima da olimpiadi che rompe dalle tv di tutto il mondo deve aver condizionato anche questa graziosa capretta americana che in mancanza di aste e materassini ha pensato bene di inventare un personalissimo e surreale campionato, il salto della capra. Per ingannare la noia la saltatrice quadrupede si è messa a zompettare su fratelli e sorelle mostrando tra l'altro doti da grandi atleta. Le capre, si sa, sono grandi saltatrici oltre che abili arrampicatrici, ma questa come si vede ha un vero e proprio talento, pronta letteralmente a passare sui corpi dei propri simili pur di avere dalla padrone una golosa ricompensa per le sue funamboliche pirouette.